Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Wimple, chiamiamolo scenario classico senza divisione del Movimento 5 Stelle. Vediamo che il primo partito Fratelli d'Italia con il 25,7, segue il Partito Democratico con il 21,3, poi la Lega con il 15,2, il Movimento 5 Stelle con il 9,9, Forza Italia con il 9,7, Azione e più Europa con il 3,4, Italia Viva con il 2,7, abbiamo i Verdi all'1,9, Italia Exit all'1,9, abbiamo poi i Partiti Socialisti allo 0,4, la sinistra 1,4, Partito Comunista 1%, altri partiti 4,5%. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.